C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it, cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it, da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it, il quotidiano online dei Monti Sicani. Allora, ci vediamo un po' di gol del campionato d'eccellenza alle due stagioni 2008-2009, 2009-2010. Buon divertimento, i migliori gol dell'eccellenza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti